Sono Miriam McNaghy, psicanalista e cantante, e in entrambe le professioni ho a che fare con la poesia dell'essere umano. Poesia, letteratura, musica sono fondamentali nella mia vita. Sono la vita, sono il rifugio, la casa, il viaggio, il segreto, la magia, la storia ed il pensiero. Siamo cresciuti noi in una casa dove il libro era un oggetto prezioso e ci veniva insegnato che il libro non si può maltrattare perché soffre e piange, lo devi avere in cura, lo devi tenere bene, non lo devi sciupare, lo devi usare certamente, lo devi leggere, ma non lo puoi maltrattare perché soffre e piange. E quando arriva la fine dei suoi giorni, non lo puoi buttare via come una cosa inutile che non serve più, ma lo devi seppellire come un essere umano. Mio padre aveva sempre un libro in tasca e lo leggeva sempre quando poteva. Era la risposta che lui cercava sempre in questo libro ai suoi problemi. Il libro era il suo amico più prezioso, erano inseparabili, mio padre e il libro. E quando poi cominciamo a cantare le nostre buone canzoni insensate, allora tutto ci apparve ancora come era stato. Un giorno non fu che un giorno, sette fanno una settimana, cosa cattiva ci parve uccidere e morire è una cosa lontana. E i mesi passano piuttosto rapidi, ma davanti ne abbiamo tanti. Fummo soltanto giovani, non infami, non martiri, non santi. Ma erano cose come le nuvole e difficili da spiegare. E' una poesia di Primo Levi. Una poesia ancora vi voglio dedicare. Mia madre cuoceva il mondo intero al forno in dolci torte per me. E le nostalgie sono racchiuse in me come bolle di lievito nel pane. La mia amata metteva uva passa di stella alla mia finestra. E le nostalgie sono racchiuse in me come bolle di lievito nel pane. Ma come la carta è bianca e l'inchiostro è nero, così il mio cuore arde di passione per te. Signore Enrico, dai onori e glorie. A me solo un libro da leggere con la mia amata. Poesia Yiddish A me solo un libro da leggere con la mia amata.